Dottore, mi sento sempre fuori posto, come un applauso fuori tempo, come una suora in mezzo al bosco. Dottore, ho paura a entrare in un negozio, a rimandare indietro un piatto, sono un disastro su tutto. Un dottore, mi dica un posto dove andare, a fare il punto della situazione, per poi ricominciare. Un ansiolitico, un antibiotico, un omeopatico o quello che c'è, perché ho il circuito che si è interrotto, ho tutti i fili contro di me. Un ansiolitico, un antibiotico, un omeopatico o quello che c'è, perché ho il circuito che si è interrotto, ho tutti i fili contro di me. Dottore, ho un gusto nel particolare, che se vede una formica ad un incrocio, la faccio attraversare. Non so nemmeno più qual è il mio ultimo indirizzo conosciuto, e mi sa che avrei bisogno, bisogno di una mano, appena uscita. Non saluto, e a dire il vero non lo so, il vero senso di questa malattia. C'è una mancanza di memoria, una pista di atterraggio, per scivolare, scivolare, scivolare via. Un dottore, ma come un senso di colpa, che non so proprio da dove viene, ma non so dove mi porta. Un ansiolitico, un antibiotico, un omeopatico o quello che c'è, perché ho il circuito che si è interrotto, un tipo psichiatrico tra me e me. Un ansiolitico, un ansiolitico, un omeopatico o quello che c'è, ho gli emisferi, destro e sinistro, sinistro e destro contro di me. Un ansiolitico, un antibiotico, un omeopatico o quello che c'è, perché ho il circuito che si è interrotto, un tipo psichiatrico tra me e me. Dottore, 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 dottore. Dottore, dottore, dottore. Dottore, dottore.